Buonasera a tutti e ben ritornati in Gran Gale in Cucina. Noi stiamo dicendo che quando abbiamo finito tutto il nostro primo piatto lo riprendavamo alla fine. Ingredienti li abbiamo detti, che sono praticamente un risotto autunnale veramente speciale, per anche le feste di Natale può andare benissimo, ha un profumo veramente eccellente e squisito. Ingredienti sono un melograno, 5 g di riso, metà burro, un mezzo bicchiere di olio, un dado, un po' di verdure per fare il brodo vegetale, che è veramente buono per coprire il melograno del suo sapore acidignolo, e cipolla una, sale, pepe, quanto basta. Mettere sulla nostra padella con il resto, olio, cipolla, burro, eccetera, eccetera. Mettere quella delle verdurine per il brodo, e mischare sempre il riso almeno per un'ora, un'oretta, che deve diventare un bel impacco omogeneo. Con questo noi vi salutiamo e arriviamo alla prossima ricetta, che è un secondo piatto della Festa dei Santi. A tra poco con Gran Gala, ciao a tutti!